Buongiorno a FETI Online, partenza e ribasso questa mattina per la borsa, anche se per adesso niente di drammatico, abbiamo il Fuzzi Nib in caudolo del 1% circa, è arrivato intorno ai 21.900 punti, come si vede qui dal grafico intraday però il supporto critico è poco al di sotto di questi livelli, 21.750 abbiamo sia la linea che sale dai minimi di metà agosto ma soprattutto la base di questo potenziale doppio massimo, sotto area 21.750 la figura ribassista verrebbe completata, la figura è ampia 500 punti circa, quindi sotto 21.750 target fino almeno a 21.250 con probabile ricopertura del gap rialzista del 4 settembre, solo sopra 22.250 il rischio di vedere completato il doppio massimo avrebbe cancellato e in quel caso potrebbe esserci un tentativo di puntare verso area 22.750 22.8, quindi per adesso ancora attenzione perché nonostante il supporto abbia sostanzialmente tenuto, anzi il duplice supporto abbia tenuto la pressione questa mattina sembra ribasso, non c'è niente di negativo sul mercato però mancano diciamo quelle indicazioni positive sia sul fronte della guerra dei Dazi, il prossimo incontro ufficiale a alto livello sembra essere ormai stabilito per il 10 di ottobre a Washington tra Stati Uniti e Cina ma soprattutto sul fronte delle tensioni geopolitiche resta alto il rischio di uno scontro nell'area del Golfo, quindi i mercati sono un po' preoccupati da questa cosa, il prezzo del petrolio resta sotto tensione ma soprattutto c'è il timore di un'evoluzione che passi dalle parole ai fatti, quindi nervosismo sui mercati e questo giustifica il calo dei prezzi di questa mattina e non solo sul mercato italiano, questo è il grafico dell'S&P 500 quindi indice statunitense anche qui è ben evidente il rischio di un doppio massimo, vedete il picco toccato giovedì dalle quotazioni a 30,22 è sostanzialmente allineato con quello del 12 settembre a 3.021 punti, entrambi sono leggermente al di sotto del record toccato a luglio a 3.028 punti, quindi c'è questa forte esistenza in prossimità della quale si è disegnato questo potenziale doppio massimo, solo al di sotto del minimo del 18 settembre a 2.978 punti circa ci sarebbe il rischio di un'evoluzione negativa, in quel caso ci sono alcuni gap da ricoprire, vediamo questo del 5 settembre con lato inferiore a 2.922 e poi c'è invece quello del giorno precedente lasciato dai prezzi il 4 settembre con base a 2.914 e poi abbiamo anche quello dal quale è partito il movimento, il gap del 29 agosto con base a 2.890, quindi il rischio di assistere una correzione anche estesa di tutto questo movimento di rialzo c'è, il primo movimento rialzista, quello che abbiamo visto dai minimi del 5 ai massimi del 13 agosto ha un'ampiezza che se la proiettiamo per 1.618 volte più o meno ci fornisce il target sul quale si sono arenati i prezzi appunto nelle due sedute del 12 e del 19 settembre, quindi questa ampiezza moltiplicata per 1.618 volte a partire da questo minimo ci dava questo target, questa è una pratica abbastanza comune in analisi tecnica quando si vanno a cercare i target degli swing over, ossia di queste oscillazioni rialzo, ribasso, ribasso, rialzo, la prima ipotesi che si fa è che il secondo movimento della stessa direzione sia di ampiezza uguale al primo oppure che sia stesa appunto 1.618 volte, il fatto che le quotazioni in prossimità del massimo storico hanno disegnato questo doppio massimo sul target dello swing è un elemento che induce prudenza perché aumenta ovviamente il rischio di avere violata la base di 2.978 punti, quindi attenzione perché su S&P 500 a meno di un recupero oltre 3.030 il rischio di una flessione anche accentuata resta ben elevato, del resto il mercato questa mattina ci sta dicendo proprio questa cosa. Oggi ci concentriamo su una serie di strumenti per i quali mi avete fatto delle domande, iniziamo con due generici prima di passare ai singoli titoli l'andamento del prezzo del petrolio che questa mattina è un rialzo dell'1% circa, c'è stata questo ripiegamento settimana scorsa dopo l'accelerazione e rialzo sull'attacco dei pozzi in Arabia Saudita, abbiamo visto la rottura per una seduta di questa importante esistenza, la candela settimanale archiviata dal prezzo del greggio, vedete tutto sommato che resta una candela non positiva perché c'è stata rottura della resistenza, è vero, ma successivamente abbiamo avuto un ribaltamento di fronte che ha comportato la chiusura di settimana ben al di sotto del livello critico. Tornando al grafico giornaliero, possiamo vedere che il movimento di rialzo che c'è stato ai minimi di dicembre ai massimi di aprile di quest'anno si è fermato su un importante livello di risalciamento e questo costringe a considerare il rimbalzo che abbiamo visto dai minimi di dicembre per adesso come un movimento correttivo, solo se le quotazioni dovesse tornare nuovamente a di sopra di 64 dollari, in quel caso potremmo pensare che questa esistenza potrebbe venire superata e allora avremo una possibilità concreta di puntare al test 78,6% di retracement in area 70,69,50, ma per il momento il rischio resta quello che il trend vero e proprio sia quello che abbiamo visto a partire dal massimo di aprile, questa fase intermedia che ne ha corretto una buona porzione, ma non è riuscita a invertirlo, sarebbe l'elemento correttivo intermedio, mancherebbe a questo punto ancora una fase ribassista che potrebbe riportarci verso i minimi di fine 2018, pertanto solo sopra 64 avremmo un mutamento di questo quadro grafico che altrimenti sembra destinato a puntare al ribasso. A proposito di ribasso, una domanda mi è stata fatta sugli ETF o meglio ETC short, qui abbiamo uno dei più scambiati che è l'XBRMIB, uno short 2x, ovvero che moltiplica di due volte le oscillazioni del indice, settimana scorsa abbiamo visto la violazione di questo supporto, minimo di luglio, c'è stata la discesa al di sotto dei minimi di luglio, non abbiamo visto veramente un'accelerazione significativa al di sotto di quei livelli, quindi per adesso la violazione di A290 e A295 può essere ancora considerata in forse, vedete che tendenzialmente nel periodo, negli ultimi anni l'ETF non ha ovviamente performato bene, c'è stata una continua e significativa discesa, ma il fatto che i prezzi abbiano tutto sommato tenuto da questo supporto, se oggi dovesse esserci come c'è in questo momento, visto che l'indice sta scendendo e quindi questo ETF essendo reciproco dell'indice ovviamente sale, deve essere, se ci recupero la di sopra della A290 e A295 potremmo iniziare a pensare all'avvio di una fase di rimbalzo che avrebbe anche la possibilità di dimostrarsi interessante, ci sarà da fare molta strada prima di negare la tendenza ribassista che è partita dai massimi di inizio 2019, vi ricordo che guardare il grafico di questo ETF è come guardare il grafico dell'indice Fuzzimib a scala invertita, sostanzialmente le due cose sono sovrapponibili, ovviamente l'ampiezza dei movimenti qui è amplificata dal fatto che il nostro OTC è un 2x e quindi semplicemente se l'indice perde l'1%, questo guadagna il 2, più o meno ovviamente, questo dovrebbe essere a spanne, poi ci sono delle piccole imperfezioni di mercato per cui non è sempre così esatta il rapporto, ma sostanzialmente possiamo immaginare come se fosse così, quindi al di sopra esattamente di questo massimo che è il massimo del 17 settembre a 2,98, penso che ci potrebbe essere un segnale d'acquisto, ossia il nostro indice confermerebbe il doppio massimo di cui abbiamo parlato guardando prima il grafico dell'intraday e avremo la possibilità di vedere salire in maniera significativa l'ETF XBirmib, questo è il grafico dell'indice, vedete il doppio massimo di cui stavo parlando. Torniamo a concentrarci adesso invece sui singoli titoli, iniziamo con quelli del Fuzzimib, Biperbanca questa mattina in calo a 3,53 Euro, la seduta di venerdì aveva negato in parte il rialzo di giovedì, la discesa non aveva interessato il 50% della singola candela, vedete in questa situazione quando dopo una lunga candela bianca ne compare una nera, perché si possa parlare di una negazione del precedente movimento rialzista, bisogna che i prezzi scendano almeno di sotto del 50% di rifiacciamento della singola candela, venerdì questo non era accaduto perché il 50% di testo è intorno a 3,60 Euro, abbiamo però oggi i prezzi che sono a 3,53 Euro, quindi sarebbe stato violato questo forte supporto, la linea di tendenza che sostiene tutto il rialzo dai minimi di agosto passa circa a 2,54 Euro, quindi anche quella questa mattina sarebbe sotto pressione, diciamo che una chiusura di seduta sotto 3,50 Euro potrebbe far temere l'avvio di una nuova fase ribassista, del resto il primo movimento di rimbalzo che c'è stato nel mese di giugno aveva ritracciato come vedete il 61,8% esattamente del ribasso precedente, quindi si era confermato un elemento di correzione, da quello poi è ripartita la fase ribassista del trend, il rimbalzo che abbiamo visto dai minimi del mese di agosto anche esso più o meno ha ritracciato il 61,8%, ci sono state un paio di sedute soprattutto giovedì in cui siamo andati oltre la resistenza, ma come abbiamo detto la rottura dell'ostacolo è stata subito rimangiata, quindi attenzione perché potremmo adesso essere in presenza di una nuova fase di calo, ovviamente sopra 3,70 cambierebbero le cose perché già nel corso delle ultime sedute avevamo visto la rottura di questa trendline e quindi un primo tentativo di inviare un segnale di forza c'era stato, pertanto sopra 3,70 si potrebbe tornare a considerare valido questo segnale di rialzo, se invece i prezzi avessero confermarsi al di sotto di area 3,53-3,54 nelle prossime sedute ci sarebbe un rischio elevato di vedere riprendere il trend ribassista, magari anche con Tiger proprio sui minimi di agosto, quindi banche in questo momento un po' in difficoltà, anche se conservano ancora una possibilità di rimbalzo secondo me attorno al 50%, quindi siamo in uno scenario abbastanza di equilibrio, 50% di possibilità di vedere salire i prezzi verso i massimi di luglio, 50% di averli scendere sui minimi di settembre, se ci allontaneremo al di sotto di 3,50 la possibilità di arrivassista ovviamente acquisterebbe notevolmente forza al di sopra di 3,70, invece al contrario sarebbe quella rialzista a diventare dominante. Passiamo adesso a CNH che settimana scorsa aveva inviato un segnale di forza abbastanza interessante, che però già in parte nella stessa seduta in cui era stato inviato si era negato, perché i prezzi erano saliti al di sopra di questo evidente shooting star, la candela del 4 di marzo, questa lunga coda verso l'alto, sta testimoniare che in area 10,10, 10,15 c'è una forte resistenza, i prezzi hanno cercato settimana scorsa e anche nella precedente, perché questa è la candela del 16 settembre, di forzare l'ostacolo, però vedete ancora una volta è comparso una lunga coda verso l'alto che ci dice che in questa seduta i prezzi hanno tentato sì di superare la resistenza, sono arrivate nell'intraday anche ben al di sopra dello stacco, quindi fino a 10,51, ma poi in chiusura sono ritornati proprio in presenza del nostro livello di resistenza, settimana scorsa nelle ultime 3 sedute c'era stata questo tentativo di frenare il ribasso con il test di area 9,80, ma nella seduta di oggi siamo scesi anche sotto quei livelli, questa è la media mobile esponenziale a 20 giorni, vale 9,52, quindi siamo ancora un po' al di sopra della media, se dovessero scendere al di sotto, però potrebbe esserci un'accelerazione ribassista, vedete nel recente passato tutte le volte che la media è stata superata al rialzo o al ribasso c'è stata una bella accelerazione nella direzione della rottura della media, quindi fino a che i prezzi rimarranno di sopra di 9,50, 9,55, si potrà immaginare un tentativo di rimbalzo sotto quei livelli, il rischio sarà di flessioni, abbiamo due gap da ricoprire, quello del 30 di agosto e quello del 19 di agosto che è molto vicino ai minimi del mese, che hanno stato toccati intorno ai 7,60 Euro, quindi CNH non è riuscito a confermare segnali positivi, per adesso non ne hanno inviati negativi, però di solito il rischio è che quando si fallisce la rottura in una direzione, poi il mercato accelera in quella opposta, quindi questa bull trap potrebbe essere l'inizio, una fase di ribasso che sotto abbiamo detto 9,55 rischia di diventare anche estesa. Passiamo adesso a Ferrari, da un punto di vista sportivo il nome Ferrari nelle ultime settimane è tornato sotto i riflettori, grandi successi, però a questo non è corrisposto un altrettanto significativo rialzo delle quotazioni del titolo, c'è però da dire che questa fase laterale all'interno di questo canale, del quale settimana scorsa è stata toccata la base, potrebbe essere un flag, voi sapete che il flag è una figura di continuazione, questo canale quasi orizzontale che compare dopo una bella tendenza rialzista diventa alla fine solo una pausa, si dimostra a posteriori, solo una pausa del trend crescente precedente e non un'inversione, purtroppo per avere il segnale di ripresa dell'up trend sarà necessario attendere la rottura del lato alto del canale che ha 149 circa, una chiusura di seduta al di sotto della base del canale invece lo trasformerebbe in un doppio massimo anche se non proprio da manuale, perché è un po' inclinato, ma se dovessero scendere sotto 135 ci sarebbe un rischio elevato di assistere ad una fase negativa, tutto sommato quello che sta succedendo adesso, l'abbiamo già visto anche in passato, il titolo fa questa generazione a rialzo, poi si ferma per un po' di tempo per poi ripartire, diciamo che questo è sintomatico di una tendenza di fondo crescente, tendenza che per adesso non è stata interrotta, guardiamo ad esempio la media mobile a 100 a 200 giorni, come si sta comportando, questa esponenziale a 100 giorni, è stata toccata nelle ultime due settimane a più riprese, la media vale 137,40, quindi anche oggi saremmo sopra questo riferimento, ma tutto sommato sta dimostrando di tenere, quindi l'idea che questa sia solo una correzione temporanea resta confermata anche dal comportamento della media, la 200 giorni ovviamente è più bassa, distante dai prezzi, vale circa 128,5, direi per adesso di concentrarci sulla media 100 giorni, quindi violazione della media, violazione della base del canale farebbero temere una fase di bassista di una quindicina di Euro circa, secondo me invece se dovessero salire sopra 147, 148, avremmo veramente un bello spazio di rialzo davanti, cosa potrebbe succedere? Diciamo che avremmo la possibilità di vedere toccato il lato alto di questo canale, del quale già a luglio è stato superato il limite superiore, quindi abbiamo già avuto un tentativo di accelerare rispetto alla velocità di crescita media degli ultimi mesi, se i prezzi adesso puoi salire sopra la 157, 158 che attualmente è il lato alto del canale, potremmo immaginarci una crescita di almeno un'altra ventina di Euro data dalla protezione dell'ampiezza del canale verso l'alto, quindi sopra le 158, possibilità di arrivare adesso 178, 180, ovviamente questo movimento ha ancora tutto da costruire, ma per dare un'idea di quello che potrebbe essere il potenziale di crescita del titolo. A questo punto ci rimane solo da guardare Telecom per finire la carrellata dei titoli Fuzzimib, Telecom che venerdì non ha dato certamente un bel segnale perché i prezzi sono arrivati a confrontarsi con i massimi del 29 luglio a 0,52,70, venerdì abbiamo toccato 0,52,70,80, ma la chiusura è stata segnata ben al di sotto di quei livelli. Il titolo deve ancora decidere cosa vuole fare la grande, nel senso che quello che abbiamo visto nel corso delle ultime settimane è la costruzione di un'ampia fase laterale, per adesso gioca di sponda all'interno di questa fascia orizzontale, in questo momento siamo nella parte alta della fascia, quindi almeno un ritorno nella porzione intermedia tra 0,47,50 e 0,48 sembrerebbe probabile, per dimostrarci che il sentiment sul titolo è cambiato in modo radicale, sarà necessaria la rottura confermata secondo me almeno dalla chiusura di settimana oltre 0,53, in quel caso tutta questa bella fase laterale potrebbe diventare una base sulla quale costruire movimenti di rimbalzo che avrebbero la possibilità di portarci almeno verso 0,63, 0,64, però ripeto per adesso il titolo fa veramente fatica a dimostrare di voler intraprendere una strada rialzista duratura, quindi Telecom Italia sicuramente da continuare a seguire da un punto di vista dei fondamentali, sono molti broker che continuano a sponsorizzarlo come un titolo dal potenziale notevole, questo potenziale però per adesso negli ultimi mesi non si è mai estrinsecato in modo evidente, quindi sotto i riflettori, ma in questo momento secondo me ci sono delle scelte operative migliori rispetto a Telecom da tenere in considerazione. Adesso tre titoli tra virgolette minori per i quali come dicevo mi avete chiesto l'analisi, iniziamo con Anima Holding che si è mosso all'interno di questo canale, forse ancora non perfetto perché i prezzi non hanno toccato il lato alto, però sostanzialmente diciamo che è una linea di movimento rispetto a quale non c'è stata una vera e propria accelerazione rialzista, il lato alto del canale passa a 3,75, sopra 3,75 avremmo un bel segnale di forza, per adesso però la tendenza negativa che ha caratterizzato l'andamento degli ultimi due anni circa di mercato non mi sembra che sia stata interrotta, il mercato potrebbe forse anche aver voglia di mettere a segno una correzione più significativa su questo titolo, ma mancano per adesso le conferme, come dicevo sopra 3,75, 3,80 magari si può puntare a un rimbalzo verso 4,10, 4,15 ma anche qui diciamo che questo è più una speranza, un desiderio piuttosto che una concreta possibilità dal momento che mancano ancora a segnare in questo senso, chi avesse il titolo in mano sotto 3,45 secondo me potrebbe iniziare a valutare l'idea di una riduzione dell'esposizione perché c'è il rischio in quel caso di un ritorno verso la base del canale, quindi oggi siamo proprio su quei livelli, chiusura e seduta sotto 3,45 mi farebbe temere il ritorno verso 3,17, 3,18. Guardiamo adesso Geox che nel corso del recente passato ha dato un paio di volte l'impressione di voler partire a rialzo, non ci è mai riuscito in modo convincente, è vero che ci manteniamo per adesso al di sopra di questa forte area di supporto, quindi fino a che siamo al di sopra di 1,16, 1,17 la possibilità di assistere a un rimbalzo c'è, però sarebbe opportuno che alla fine il titolo ci inviasse un segnale di forza, la media mobile a 20 giorni ormai orizzontale, quindi anche nell'ottica del breve termine il trend è assente perché se la media è orizzontale vuol dire che non c'è una tendenza di fondo da studiare, in mancanza di una tendenza di fondo la comparsa di segnali di inversione in termini di figure rialziste o ribassiste ha poco significato, questa linea di tendenza che parte al minimo di dicembre dello scorso anno, i prezzi l'hanno utilizzata nelle ultime settimane come baricentro dell'azione, coincide più o meno con la media esponenziale a 20 giorni, direi veramente c'è poco di interessante, se dovessimo salire al di sopra il 61,8% di retracement di questo ribasso, quindi sopra l'area 1,36 potremmo iniziare a sperare in una fase crescente più significativa, se il prezzo dovesse allontanarsi verso il basso dalla trend line che abbiamo disegnato, ci sarebbe il rischio di andare a fare nuovi minimi al di sotto di quelli di giugno a 1,17. Ci rimane infine Falk Renewables, il settore delle rinnovabili è sotto i riflettori, tutti parlano in questo momento di investimenti, in questo comparto il titolo si era avvantaggiato di queste voci nelle ultime sedute, anche oggi tutto sommato si muove contro tendenza, anche se sembra aver già perso un po' della sua spinta rialzista, diciamo che poi i presupposti ci sono stati settimana scorsa per vedere qualcosa di buono, ma il mercato si è poi fermato senza superare 4,05, 4,15 che sono i livelli da battere per inviare un vero e proprio segnale di forza, per adesso rimarrei prudente perché se in un contesto favorevole al settore questo è quanto di buono ha fatto vedere il titolo, c'è il rischio che poi si torni nuovamente a scendere, invece sopra 4,15 il mercato potrebbe convincersi che c'è da sfruttare un potenziale di crescita significativo e allora potrebbe riproporsi una tendenza simile a quella che abbiamo visto nello scorso anno, a partire dai minimi dello scorso anno, è prevaturo secondo me comprare il titolo in assenza di un vero e proprio segnale di forza, quindi anche questo da seguire con attenzione, ma eviterei di sbilanciarmi al rialzo. Intanto vedo che il Fuzzini Future che noi questa mattina abbiamo venduto sotto 21,9, intorno a 21,8 e 10 ha creato una bella base, sta cercando di rimbalzare, c'è una linea di supporto importante in quell'area che è data dal neckline del testo a spalle di continuazione costruito dai massimi del 23 e del 27 di agosto, vediamo se riesco a riproporvi la stessa cosa sul grafico del Fuzzimib orario, questo era il nostro testo a spalle di continuazione, qui stiamo parlando però dell'indice, questa era la nostra linea di tendenza che una parte da questo massimo e poi da quest'altro, se facciamo proseguire la linea, vedete più o meno si incrocia anche con l'indice sui livelli attuali, vediamo se riesco a farvi vedere meglio questa cosa che volevo dirvi, questa qui sarebbe la nostra linea di tendenza, parte da questo massimo e incrocia questo, vediamo se riesco a ritrovare una linea retta, ecco qua, vedete questa linea sulla quale si sta appoggiando il future questa mattina, nel caso dell'indice invece leggermente al di sotto dei prezzi attuali. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon fine di seduta, buon proseguimento di seduta e vi do appuntamento domani con il consueto commento giornaliero.